Grazie a tutti! Ok, via! Hai un posto segreto dove ti piace rifugiarti? Sì, nel parco vicino a casa mia, sono da sola, mi ha tagliato i copioni e faccio tante cose belle. Il primo appuntamento ideale deve essere in un ristorante bello italiano a mangiare tanto cibo. Chi è il tuo cantante preferito? La mia cantante preferita è Demi Lovato, l'adoro. Ti sbrodoli quando mangi, a volte può capitare, soprattutto con l'acqua. Poi, cosa pensi la mattina quando suona la sveglia? Ti prego dimmi che ne hai messa un'altra Giulia perché non posso svegliarne in questo momento. Ok, quali sono le caratteristiche che cerchi in un ragazzo o in una ragazza? Deve essere simpatico, deve saper mettere in testa e deve mangiare tanto cibo. Qual è il tuo capo preferito del tuo guardaroba? Le maglione e le felpe grandissime? A chi hai mandato l'ultimo messaggio oggi? Credo a mia mamma. Qual è il tuo talento nascosto? Ciao! Se volete scoprire come se la sono cavata agli altri ragazzi, dovete assolutamente vedere le nuove box challenge. Ciao! 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 Che dia hermoso, che buono sei. Che è? Di dove... Di dove... Di dove mi stanno scrivendo? Ma... Ma... Sol... In che idioma soñas? Ehhh... Depende. Italiano o Español. Ambos, chiaramente. Altenso di che... Es che non lo stingo. Come che a veces me passa da mesclarla in un'audio che sto enviando a un'amico e un'miching, e non mi doi facendo che sto parlando. Ay si! Ojalá noi possamos cruzar en algun'e progetto o algo. Ojalá estere buisissimo. Ehhh... Es de Mexico, come fuori di Mexico? Me imagino hermoso, o no? Que me cuentan? Cuentanmi cositas o pregúntanmi cositas Io sto di aca, volevo fare un live Miren, ahi vi Miren Miren Espera, miren Mi nuova parte favorita De la casa Porque aca tenemos Este maravilloso espejo Maravilloso